Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo un tutorial su come configurare Betaflight. Questo tutorial è dedicato ai principianti, e tratterà solo le configurazioni strettamente necessarie a chi parte da zero. Il video sarà un po lungo, in descrizione vi lascio l'indice degli argomenti in modo da poter andare direttamente alla parte che vi interessa. La prima cosa da fare è scaricare il Betaflight Configurator, vi lascio il link in descrizione. Scaricate e installate la versione adatta al vostro sistema operativo, io ho Windows quindi scarico questa. La seconda cosa da fare è installare i driver del flight controller, se non sapete come fare potete seguire il mio tutorial. Infine bisogna aggiornare il flight controller, per farlo è necessario conoscere il target, come sempre il link del mio tutorial è in descrizione. Una volta fatte queste prime operazioni possiamo iniziare. Alcune opzioni che ci interessano sono disponibili solo in Expert Mode, quindi clicchiamo qui per abilitarlo. Se volete che Expert Mode sia disponibile ad ogni avvio del configurator, andiamo nelle opzioni e attiviamo Abilita permanentemente Expert Mode. Il primo tab di Betaflight è il Setup. Questa pagina è molto importante perchè vi fa capire se la scheda è orientata bene all'interno del frame. Muovete il drone avanti e indietro, a destra e a sinistra. Se il vostro drone si muove come il modello a schermo è tutto ok. La seconda scheda è la pagina Port. In questa pagina attiviamo le periferiche che abbiamo collegato al flight controller, come la ricevente, il GPS o la telemetria della VTX. Ogni flight controller ha un numero di porte UART che possono variare in base al modello. Le porte UART sono composte da un TX e un RX più un numero che le identifica. Vi ricordo che possiamo collegare solo una periferica per porta UART, quindi se per esempio usiamo un RX per collegare la ricevente, non possiamo usare il TX che rimane per collegare qualcos'altro. Alcune periferiche vanno collegate al TX, altre all'RX e altre ancora hanno bisogno sia dell'RX che del TX. Qui potete vedere un esempio di configurazione. Durante la build ho collegato lo SmartAudio nel TX dell'UART1, quindi nella riga dell'UART1 attivo TBS SmartAudio. Il GPS l'ho collegato nell'RX3 e TX3, quindi nella riga dell'UART3 attivo GPS. Il cavo SBUS l'ho collegato nell'RX4, quindi attivo Serial RX nell'UART4. Il cavo SmartPort l'ho collegato nel TX6, quindi in telemetria output dell'UART6 attivo SmartPort. Quindi ricapitolando, quando colleghiamo una determinata periferica in una UART del Flight Controller, dobbiamo andare in PORT e attivarla nell'UART corrispondente. Quando avete finito ricordatevi di salvare. Passiamo alla pagina Configurazione. Vi faccio vedere solo le opzioni da cambiare, quelle che salto vanno bene anche di default. Qui scegliamo il protocollo degli ESC. Tutti gli ESC recenti sono compatibili col protocollo DSHOT. Se i vostri sono BLELi32 potete mettere DSHOT1200. Se i vostri ESC sono BLELiS mettete DSHOT600. Questi valori lasciamoli così. Qui scegliamo la frequenza del gyro e dei PID, e lo facciamo in base al processore del nostro Flight Controller. Se avete un F3 mettete 2kHz 2kHz. Se avete un F4 mettete 8kHz 4kHz. Se avete un F7 mettete 8k 8k. In ogni caso verificate che il carico della CPU non vada oltre il 25%. L'ideale è tenerlo intorno al 10% o meno. Tenete attivo l'accelerometro e disattivate il barometro e il magnetometro, perchè sono dei sensori che non vengono utilizzati nel volo FPV. Qui potete personalizzare il modello col vostro NIC. In Receiver scegliamo SerialBased Receiver. In questo menu a tendina sotto scegliete il protocollo della vostra ricevente. I più utilizzati sono SBUS per FRSKY, iBUS per Flysky, CRSF per TBS Crossfire e F-Port sempre per FRSKY. Qui è importantissimo lasciare disattivato l'RSSI analogico, in quanto manda in conflitto l'RSSI digitale utilizzato dalle nostre riceventi. Se avete un GPS attivatelo e configuratelo in base al vostro modello. In Outer Feature attiviamo Telemetry se utilizziamo la telemetria della ricevente. Attiviamo AirMod per migliorare il volo. OSD visto che ormai è supportato da tutti i flight controller. AntiGravity e Dynamic Filter li lasciamo attivati come da default. IndieShot Beacon Configuration attiviamo RX Lost RX Set, in questo modo usiamo gli ESC come se fossero un buzzer. Se invece avete montato un buzzer classico e volete usarlo, lasciate disattivate queste opzioni. Io comunque vi consiglio di usare l'ESC buzzer perchè lo trovo più affidabile. Se avete dei problemi in descrizione vi lascio il mio tutorial su come settarlo al meglio. Tutte queste opzioni lasciate reattivate. Quando abbiamo finito, Save e Reboot. Power and Battery non ci interessa. Failsafe lasciamolo tutto così a meno che non avete installato un GPS e volete usare il GPS Rescue per il failsafe. La regolazione dei PID è un argomento molto complesso e non adatto ai principianti. Per iniziare a volare i settaggi stock vanno bene. L'unica cosa che possiamo cambiare è l'RC Rate, in modo da fare i flip e roll più veloci. Io consiglio di partire con 1,35 su Pitch, Roll e Yaw e vedete come vi trovate. Se i roll sono troppo veloci diminuite tutti i valori. Se invece i roll vi sembrano troppo lenti, aumentate a 1,40 o 1,45. In Receiver verifichiamo che i movimenti del radiocomando corrispondano in maniera corretta. Se notate che il movimento degli stick è invertito andate in Channel Map e cliccate su FRSky, in modo da avere a ETHR1234. Se avete l'RSSI qui dovete impostare l'AUX del canale corrispondente. In questa ricevente l'RSSI è nell'AUX6, quindi qui seleziono AUX6. Il tab MOD serve per associare le switch a particolari funzioni. Oggi vediamo solo quelle strettamente necessarie per iniziare. Le altre potete aggiungerle voi quando sarete un po' più esperti. Prima di iniziare è necessario attivare le switch nella radio. Se avete una Taranis e non sapete come fare vi lascio il mio tutorial in descrizione. L'ARM tramite switch è una cosa che non deve assolutamente mancare in ogni configurazione. Per motivi di sicurezza potrebbe essere necessario disarmare immediatamente il drone. E la switch è il modo più pratico e veloce per farlo. Clicchiamo su ADD RANGE e muoviamo la switch desiderata. Come vedete il sistema ha rilevato in automatico la switch. Se volete potete assegnarla manualmente da questo menu a tendina. Adesso spostiamo questa barra tutta a destra per fare in modo che quando attiviamo la switch il valore sia compreso al suo interno. Un'altra funzione utile per chi inizia è la modalità ANGLE. In questa modalità abbiamo un volo stabilizzato che ci aiuta a non far cadere il drone. Questa modalità è perfetta per prendere confidenza con il vostro modello. Il mio consiglio per il volo FPV è di partire con la modalità ANGLE. Quando siete sicuri la rimuovete e volate un po' in acro. Quando dovete rientrare rimettete ANGLE per facilitare la fase di atterraggio. Associamo anche una switch al buzzer. Facciamo in modo che il buzzer suoni quando questa switch è in posizione 2. Questa configurazione è valida sia chi usate gli ESC sia chi usate un buzzer classico. Altre due funzioni utili che potete attivare sono il TURTLE MODE e il PRE-ARM. In descrizione vi lascio il link ai miei tutorial su come attivare e configurare queste due modalità. Ricordiamoci di salvare prima di uscire. ADJUSTMENT e SERVO non ci interessano. Il TAB MOTOR ci può tornare utile per verificare che i motori siano posizionati nell'ordine giusto e che ruotino nel verso corretto. Prima di attivare il controllo motori, per motivi di sicurezza è assolutamente importante rimuovere le eliche. Nel TAB OSD scegliamo i dati che vogliamo visualizzare nel display. Questi valori possono essere spostati in qualsiasi punto dello schermo. Tenete comunque un margine di sicurezza nei bordi per non avere problemi di visualizzazione. Quando comprate un flight controller nuovo dovete fare l'Upload del font, altrimenti i caratteri non verranno visualizzati. Questo passaggio va fatto solo la prima volta, anche se in seguito farete un aggiornamento firmware i font rimangono sempre caricati. Quando abbiamo finito salviamo. Sensor, Logging e Blackbox non ci interessano. Se abbiamo qualche configurazione particolare da fare possiamo usare il TAB CLI. Vi ricordo che alla fine della stringa dovete sempre digitare SAVE e premere INVIO. Betaflight è un firmware completo e ricco di funzionalità. A prima vista può sembrare molto complesso, ma se lo usate per un po' di tempo vedrete che le opzioni da modificare non sono poi così tante. Questo era il mio tutorial su come muovere i primi passi con Betaflight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie. 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 Grazie.